Pesaro è una capitale tra borghi e quartieri, sì, l'ultimo evento. Questa è un'idea avuta da Daniele Vimini, l'assessore alla bellezza, nonché vice sindaco, di creare una festa dedicata a tutti i quartieri come chiusura di tutta la programmazione che noi abbiamo fatto, perché tutta l'estate tutti i 12 quartieri più il municipio di Montecicardo abbiamo realizzato degli eventi nei propri quartieri, eventi socioculturali dove c'era la musica, dove c'era lo spettacolo, riflessione oppure come una serata dedicata alle criticità del web. E tutto questo grazie a una persona che va nominata, Monica Norito, che ci coordina in tutte le serate e ci consiglia il meglio da proporre nei nostri quartieri. Quindi il grazie in primis va a Daniele Vimini, che ha sempre avuto in mente queste idee di tutte queste serate e di creare questa serata finale dove sono coinvolti tutti i presidenti di quartiere e il presidente di Montecicardo. E poi, se mi permetti, voglio anche ringraziare Ugo Betti, che ci coordina in tutto quello che è l'attrezzatura, audio e luci, il centro operativo che ci porta le attrezzature a livello di tavoli e sedie. E quindi eccoci a questa serata dedicata alla musica con un artista, un vero artista di Pesaro, Gio Castellani. Sarà così la festa di chiusura. Tutta questa programmazione che è partita da giugno e si è conclusa adesso a fine.